Se vedi questo al mare esci immediatamente Nel 2016 un pescatore australiano vide questo dalla sua barca Inizialmente pensava fosse qualche creatura aliena Ma poi realizzò che era qualcosa di molto più spaventoso Questa in realtà è una balena gonfia Infatti quando una balena muore si gonfia E il corpo si riempie di gas fino ad esplodere Questo significherebbe budella di balena ovunque E questa balena sembra proprio sul punto di esplodere